Terza Domenica di Pasqua Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo i due discepoli, che erano ritornati da Emmaus, narravano agli undici e a quelli che erano con loro, ciò che era accaduto lungo la via, e come avevano riconosciuto Gesù nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse, pace a voi. Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma, ma egli disse loro, perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io, toccatemi e guardate, un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io, dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché, per la gioia, non credevano ancora, ed erano pieni di stupore, disse, avete qui qualche cosa da mangiare? Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse, sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture, disse loro. Così sta scritto. Il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Commento al Vangelo della Domenica di Papa Francesco Nelle letture bibliche della liturgia di oggi risuona per due volte la parola testimoni. La prima volta è sulle labbra di Pietro. Egli dopo la guarigione del paralitico presso la porta del Tempio di Gerusalemme esclama, avete ucciso l'autore della vita, ma Dio l'ha risuscitato dai morti. Noi ne siamo testimoni. La seconda volta è sulle labbra di Gesù risorto. Egli, la sera di Pasqua, apre la mente dei discepoli al mistero della sua morte e risurrezione, e dice loro, di questo voi siete testimoni. Gli apostoli, che videro con i propri occhi il Cristo risorto, non potevano tacere la loro straordinaria esperienza. Egli si era mostrato ad essi affinché la verità della sua risurrezione giungesse a tutti mediante la loro testimonianza. E la Chiesa ha il compito di prolungare nel tempo questa missione. Ogni battezzato è chiamato a testimoniare, con le parole e con la vita, che Gesù è risorto, che Gesù è vivo e presente in mezzo a noi. Tutti noi siamo chiamati a dare testimonianza che Gesù è vivo. Possiamo domandarci, ma chi è il testimone? Il testimone è uno che ha visto, che ricorda e racconta. Vedere, ricordare e raccontare sono i tre verbi che ne descrivono l'identità e la missione. Il testimone è uno che ha visto, con occhio oggettivo, ha visto una realtà, ma non con occhio indifferente, ha visto e si è lasciato coinvolgere dall'evento. Per questo ricorda non solo perché sa ricostruire in modo preciso i fatti accaduti, ma anche perché quei fatti gli hanno parlato e lui ne ha colto il senso profondo. Allora il testimone racconta, non in maniera fredda e distaccata, ma come uno che si è lasciato mettere in questione e da quel giorno ha cambiato vita. Il testimone è uno che ha cambiato vita. Il contenuto della testimonianza cristiana non è una teoria, non è un'ideologia o un complesso sistema di precette e di vieti, oppure un moralismo, ma è un messaggio di salvezza, un evento concreto, anzi, una persona. E' Cristo risorto, divente unico salvatore di tutti. Egli può essere testimoniato da quanti hanno fatto esperienza personale di lui, nella preghiera e nella chiesa, attraverso un cammino che ha il suo fondamento nel battesimo, il suo nutrimento nell'eucarestia, il suo sigillo nella confermazione, la sua continua conversione nella penitenza. Grazie a questo cammino, sempre guidato dalla parola di Dio, ogni cristiano può diventare testimone di Gesù risorto, e la sua testimonianza è tanto più credibile quanto più traspare da un modo di vivere evangelico, gioioso, coraggioso, mite, pacifico, misericordioso. Se invece il cristiano si lascia prendere dalle comodità, dalla vanità, dall'egoismo, se diventa sordo e cieco alla domanda di risurrezione di tanti fratelli, come potrà comunicare Gesù vivo, come potrà comunicare la potenza liberatrice di Gesù vivo e la sua tenerezza infinita? Maria, nostra madre, ci sostenga con la sua intercessione, affinché possiamo diventare con i nostri limiti, ma con la grazia della fede, testimoni del Signore risorto, portando alle persone che incontriamo i doni pasquali della gioia e della pace.